Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling potrete acquistare magliette come quella che indosso a tema Harry Potter ma anche di tantissimi altri fandom e anche calzini, poster, cover per cellulare, mascherine, tip-in-up, ne metta tutte scontate del 20% col mio codice 7Potter e naturalmente ragazzi il codice è accumulabile con tutte le promozioni in corso quindi link in infobox ma ma detto questo parliamo di cose importanti ragazzi oggi finalmente andremo a sfogliare assieme un volume che aspettavo praticamente da un anno io l'avevo preordinato prima della pandemia, credo i primi di febbraio e ragazzi finalmente è arrivato, ce l'ho qui tra le mie mani si tratta della versione illustrata di Harry Potter e la pietra filosofale di Nina Lima e ragazzi lo so è disponibile anche su Amazon in lingua inglese tra poco uscirà in italiano se non sbaglio il 26 di ottobre dovrebbe essere la data di uscita è stata posticipata di circa due settimane e ragazzi però io l'ho preordinata direttamente dall'Inghilterra dal sito di Nina Lima perché mi è arrivata con il loro autografo all'interno è autografato da entrambi quindi ho voluto prendere il primo direttamente da loro mi è venuto a costare circa 50 euro tra spedizioni e costo del volume ma ne sono davvero soddisfatto probabilmente il secondo lo comprerò su Amazon perché mi costerebbe davvero meno molto molto meno però il primo ci tenevo ad averlo autografato poi per il secondo che invece è già stato annunciato per l'autunno 2021 quindi ragazzi autunno dell'anno prossimo avremo già Harry Potter e la Camera dei Segreti illustrato da Nina Lima e sono davvero super super contento perché questo libro è qualcosa di spettacolare ma ragazzi non voglio parlare di questo adesso ne parleremo alla fine perché sono troppo troppo entusiasta e voglio subito andarlo a sfogliare assieme a voi ed eccoci qui col nostro volume illustrato di Nina Lima andiamo ad esaminare la copertina che ragazzi è bellissima è tutta in oro è già questo da tanti tanti punti ed è tutta incisa è davvero meravigliosa molto molto bella in pieno stile Nina Lima riprende tantissimo le stampe che troviamo in vendita sul loro negozio online e nella loro galleria e mi piace tantissimo questa loro visione di Hogwarts e del trio perché appunto Nina Lima hanno sì sempre lavorato nei film di Harry Potter ma hanno realizzato tutta la parte grafica relativa agli oggetti di scena però adesso hanno modo di reinventare, di ripensare tutti i posti, tutti i personaggi del mondo di Harry Potter e qui già vediamo la loro interpretazione di Hogwarts che a me piace tantissimo da notare anche la costa che è molto molto bella abbiamo questa torre, in cima abbiamo il nome dell'autrice, Jackie Rowling poi questa torre con il titolo Harry Potter e la pietra filosofale design e illustrazioni di Nina Lima, anno 1 e poi il loco della Bloomsbury e ragazzi adesso cominciamo a sfogliarlo il retro è più semplice ma sempre molto molto bello direi di cominciare perché c'è tantissimo da vedere intanto vi mostro qui all'interno le loro firme è stato apposto questo adesivo di Nina Lima dove loro hanno firmato a mano entrambi all'interno della copertina e sono davvero molto molto felice di aver preso questa edizione direttamente dal loro negozio e qui ecco che abbiamo la nuova rappresentazione dello stemma di Hogwarts con questo corvo poi qui abbiamo un tasso, un leone e un serpente è il solito motto della scuola adesso cominciamo con l'indice dei contenuti dei vari capitoli e qui abbiamo il capitolo 1 il ragazzo che sopravvisse e ragazzi guardate quanto è bella mi piace tantissimo questa struttura che viene richiamata in ogni capitolo questa sorta di struttura in ferro battuto mi ricorda molto appunto le stazioni dei treni e qui già vediamo subito il nostro Hagrid che guarda Harry sull'uscio della porta di Private Drive numero 4 e poi il professor Silente è la professoressa McGranit qui si vede anche la moto di Sirius che col suo fascio di luce illumina la scena molto molto bello ecco qui un'altra illustrazione a due pagine abbiamo la macchina di Zio Vernon che ferma ad un semaforo incontra della gente con dei mantelli e questo viene naturalmente raccontato nel primo capitolo per chi non lo avesse mai letto ragazzi leggete i libri ve lo straconsiglio andiamo avanti qui abbiamo delle belle cornici con delle civette e poi ecco che qui troviamo Zio Vernon e Zia Petunia nella visione di Mina Lima entrambi che guardano la tv ecco qui un'altra illustrazione con Silente e Lame Granit sotto forma di gatto col suo deluminatore che va a spegnere i lampioni di Private Drive in queste pagine invece delle gelatine al limone molto molto belle qui una semplice cornice e poi qui abbiamo il primo elemento interattivo che è l'orologio da taschino di Silente che è molto molto ben fatto abbiamo delle lancette questo orologio astronomico gira in diverse direzioni ed è molto molto interessante molto bello ovviamente non si capisce niente di come andrebbe letto ma mi piace tantissimo altra illustrazione Hagrid che arriva con la sua moto con Harry tra le braccia direttamente a Private Drive mi piace che le illustrazioni vanno anche a tagliare il testo è una cosa che mi è sempre piaciuta continuiamo ed ecco qui che abbiamo il mondo in festa il mondo magico in festa e anche questa illustrazione molto molto bella mi piacciono tantissimo i colori usati da Mina Lima mi sono sempre piaciuti questi toni così acidi e sono molto 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 belli e poi ecco che qui abbiamo il sottoscala con Harry che sogna Hagrid sulla sua moto a questi ricordi è proprio Harry ecco che lo vediamo in questa illustrazione Harry che si sveglia nel sottoscala i tantissimi regali di Dudley per il giorno del suo compleanno e qui anche la signora Fig con tutti i suoi gatti qui abbiamo un maglione che cambia di dimensione e qui ecco che siamo allo zoo siamo al rettilario bellissimo questo gioco di prospettive mi piace davvero tanto 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 ed ecco che troviamo Harry che parla col serpente all'interno del rettilario poi qui quest'altra illustrazione di Harry che sogna delle civette e andando ancora avanti troviamo la prima lettera che arriva a casa dei Dursley e qui troviamo Harry che sbircia da sotto la porta e questa è una delle mie illustrazioni preferite si tratta di una sezione della casa dei Dursley e abbiamo la stanza di Dudley la stanza di Harry e poi abbiamo appunto Dudley con Zia Petunia in cucina e qui all'ingresso abbiamo zio Vernon e tutte le civette sul tetto è davvero molto molto bella quest'illustrazione e andiamo ancora avanti qui troviamo le lettere che sbucano da ogni dove in cerca di Harry e poi i Dursley inseguiti dalle civette che fuggono dalle lettere infatti come sappiamo si rifuggeranno su un'isola e poi arriverà il nostro Hagrid a consegnare la sua torta e la lettera ad Harry mi piace tantissimo che ogni situazione ogni scena sia stata illustrata come avete visto man mano che vi raccontavo la trama le immagini accompagnavano perfettamente il mio racconto e adesso passiamo al capitolo 4 che è quello del custode delle chiavi qui non troviamo illustrazioni ma solo una cornice e qui invece abbiamo tanta roba da mangiare e poi la nostra isola con la lettera e la lettera va capovolta e poi aperta non vorrei rovinarla quindi facciamo con calma ecco qui e la andiamo ad aprire e all'interno ecco che troviamo la nostra lettera con tutto quello che serve per la scuola da questa parte quindi uniforme libri ed equipaggiamento e poi invece da questa parte abbiamo la lettera di accettazione davvero molto molto bella mi piace tantissimo come è stata studiata e curata anche questa chiusura è molto molto carina e poi va presa e capovolta e troviamo l'indirizzo molto molto bella mi piace tantissimo questa illustrazione e questo elemento interattivo andiamo ancora avanti perché c'è tanto altro da vedere qui troviamo dei gufi e poi andando avanti abbiamo Hagrid che racconta ad Harry la sua storia e qui la coda da maiale sul sedere di Dudley e poi ancora Harry con Hagrid addormentato sul divano e qui si passa al capitolo di Diagon Alley anche qui ragazzi davvero rappresentata magnificamente mi piace moltissimo qui la porta di Mattoni come è stata rappresentata da una parte abbiamo il paiolo magico e dall'altra invece intravediamo Diagon Alley davvero molto molto bello andiamo a sbirciare il capitolo ed ecco che abbiamo delle monete qui troviamo la metro di Londra infatti affronteranno il viaggio anche in metro e poi ecco che abbiamo un po' di pagine bianche 6 però adesso l'attesa è ripagata tantissimo da questa immagine interattiva da questo elemento interattivo perché ragazzi ecco che abbiamo il muro qui che si va ad aprire e al suo interno troviamo Diagon Alley guardate quanto è bella al centro abbiamo la Gringot e poi abbiamo tutti i negozi sui lati abbiamo Floris Fortebraccio abbiamo l'emporio del Gufo da questa parte ma abbiamo anche Ollivander il negozio di Quidditch delle scope l'unoscopio abbiamo qui la farmacia dei maghi abbiamo davvero tutti tutti i negozi ed è un'illustrazione bellissima che poi va semplicemente richiusa su se stessa è davvero molto molto bella e adesso andiamo ancora avanti la chiave della Gringot e qui un'illustrazione dei sotterranei della Gringot che attraversa le pagine bellissima e poi ancora i gelati di Floris Fortebraccio qui abbiamo Ago e Filo e qui questa bellissima illustrazione a due pagine con il negozio di Ollivander qui abbiamo le bacchette ma anche altri negozi qui ad esempio abbiamo Harry e Draco che provano i loro vestiti qui Harry che cerca di acquistare la propria bacchetta qui abbiamo invece il Ghirigoro con tutti i libri è davvero ragazzi molto molto bella mi piace tantissimo ed è strapiena di dettagli qui adesso abbiamo il biglietto per Hogsmeade per la stazione e infatti passiamo al capitolo 6 che è il viaggio dalla piattaforma 9 e 3 quarti ed ecco qui che abbiamo Harry che legge i suoi libri che comincia a studiare prima della partenza e poi qui abbiamo King's Cross e vediamo anche la prima illustrazione della famiglia Weasley a completo ed è davvero molto molto carina ecco qui Harry che sbircia la famiglia Weasley e i saluti ai figli e poi andando ancora avanti qui troviamo Crosta ad esempio e qui il nostro treno che sta andando verso Hogwarts qui abbiamo la dicitura il retro della figurina di Albus Silente della cioccorana mi piace molto che sia stato scritto riprendendo la forma pentagonale della figurina davvero molto molto bella e poi qui abbiamo la signora con i dolcetti qui Harry e Ron che scartano la cioccorana e qui abbiamo delle piccole gelatine tutte sparse per la pagina molto molto belle ed ecco adesso che troviamo Ermione e Crosta andiamo ancora avanti e fa la sua apparizione anche Draco Malfoy e poi arriviamo a questa che è anche un'altra delle mie illustrazioni preferite ed è Hagrid con Harry e i ragazzi che si avviano sulle barche per raggiungere Hogwarts per la prima volta continuiamo il nostro viaggio ed ecco che abbiamo il portone della sala grande e poi il capitolo 7 che è quello del cappello parlante e ragazzi quanto è bella questa illustrazione della cerimonia dello smistamento è bellissima mi piace tantissimo qui abbiamo la McGranit che accoglie gli studenti del primo anno e poi qui tutti i fantasmi attorno al testo questo ragazzi è quello che mi aspettavo da Jim Kay ma che purtroppo non è avvenuto con l'ultimo libro illustrazioni anche piccole ma in tutte le pagine questo libro è una vera gioia per gli occhi è davvero bellissimo qui abbiamo i quattro standardi delle casate di Hogwarts che sono davvero molto molto belli posizionati in alto e qui il cappello parlante tutto rattoppato anche in questo caso molto bello poi si passa finalmente al banchetto d'accoglienza per i ragazzi ragazzi viene l'acquolina in bocca è fatto davvero benissimo è super super bello e colorato qui abbiamo Nick quasi senza testa e poi altri ghirigori e qui altro elemento interattivo questo super super carinissimo perché c'è la signora grassa che muove i suoi occhi tirando questa linguetta e poi basta girare la cornice per rivelare la sala comune dei grifondoro ed è presente anche il retro del quadro è davvero fatto benissimo super super dettagliato minuzioso le cose fatte per bene come andrebbero sempre fatte e poi ecco qui il professore di pozioni quindi parliamo di Python abbiamo le scale che cambiano e poi qui abbiamo il professor Raptor con la sua prima lezione di difesa contro le arti oscure e andiamo ancora avanti adesso troviamo Python mamma mia quanto è brutto quanto è arcigno e poi qui proviamo il libro di testo il povero Neville tutto imbrattato e poi vediamo andiamo ancora avanti ecco qui altro elemento interattivo abbiamo la capanna di Hagrid che è raffigurata un po' come un piccolo chalet e poi questo qui un altro elemento che va aperto con i campi di Hogwarts il parco di Hogwarts e poi apriamo qui e vediamo anche l'interno del castello davvero molto molto bello anche questo elemento qui e continuiamo a sfogliare arriviamo al duello di mezzanotte cominciamo ecco che abbiamo il libro il quidditch attraverso i secoli è la prima lezione di volo troviamo la ricordella troviamo Neville le scope davvero non manca nulla in queste illustrazioni qui Draco Henry con la ricordella di Neville e poi anche Pix fa la sua presenza all'interno di queste illustrazioni visto che nel film è stato totalmente tagliato diamogli dignità e poi ecco qui ancora che abbiamo questa che credo sia Ermione davanti al quadro della signora grassa che però non è presente e poi qui abbiamo un corridoio con Mrs. Pur e andiamo ancora avanti ecco qui Fuffi il cane a tre teste anche lui molto bello e poi Halloween e nella pagina successiva ecco che abbiamo un'altra bellissima vista di Hogwarts quanto mi piace questa rappresentazione di Hogwarts di Mina Lima e poi vediamo qui abbiamo il boccino d'oro tanti pipistrelli e poi qui abbiamo il troll di montagna all'interno dei bagni e troviamo Ron che salva Ermione e Henry con un Wingardium Leviosa e poi capitolo undici il quidditch anche questa illustrazione molto molto bella e colorata e all'interno abbiamo Henry che spia qualcuno e poi madama Bump col suo fischetto ed ecco che abbiamo Hagrid che fa il tifo e la rappresentazione della partita tra Grifondor e Serpeverde anche questa bellissima e poi ragazzi ecco che arriviamo alla capanna di Hagrid e poi capitolo dodici lo specchio delle Emerb non mi ricordo come si dice il contrario di Brame ma sorvoliamo e andiamo avanti ecco qui che siamo arrivati al periodo natalizio tutto innevato abbiamo delle montagne di libri gli scatti magici e poi qui Henry che scatta il regalo dei signori Weasley una cioccorana con delle gelatine e poi abbiamo anche un altro maglione e questa qui che è un'altra illustrazione bellissima abbiamo la sala grande vuota e poi con uno scatto ecco che la trasformiamo nella sala grande a festa a tema natalizio ragazzi è davvero bellissima guardate ve lo faccio rivedere da sala grande vuota a sala grande natalizia è super super bello ma continuiamo a sfogliare perché questo video durerà davvero tantissimo ecco che qui troviamo Henry che si specchia nello specchio delle brame vede la sua famiglia e poi capitolo 13 Nicolas Flamel qui troviamo il mantello dell'invisibilità di Henry troviamo la cioccorana con un'altra figurina di silente e poi ancora il quidditch abbiamo un'altra partita e qui Hogwarts al tramonto con Henry e la sua civetta anche questa molto molto bella poi abbiamo una zucca e capitolo 14 Norberto il dorso rugoso di Norvegia ragazzi quanto sono belle queste illustrazioni per ogni capitolo all'inizio di ogni capitolo sono davvero molto molto belle e riassumono il senso del titolo davvero molto molto belle e vediamo quale illustrazione ci riserva qui abbiamo l'uovo sul fuoco che sta per chiudersi qui abbiamo Norberto che occupa più di mezza pagina e poi ecco che abbiamo la Meggranit che tira per un orecchio il nostro drago e qui la scala che porta alla torre ed ecco che siamo arrivati al capitolo 15 quello della foresta proibita e della punizione del trio e del povero drago ed ecco che qui troviamo le clessidre delle quattro case con i punteggi molto belle e poi abbiamo anche la foresta proibita qui con le sagome dei nostri protagonisti e andiamo avanti ecco che troviamo anche fiorenzo il centauro dentro la foresta ma quanto è bella questa cosa del testo inglobato nelle illustrazioni ragazzi mi piace tantissimo mina lima sono davvero dei geni e poi andiamo avanti ecco che troviamo volve mort che si nutre del sangue e anche questa illustrazione a due pagine molto bella e andiamo ancora avanti vediamo dove arriviamo con le illustrazioni al capitolo 16 ed ecco che abbiamo attraverso la botola e troviamo fuffi con la musica che lo fa addormentare e troviamo questa bellissima illustrazione della dell'aula con gli studenti che si lanciano gli incantesimi a vicenda molto bella la prospettiva ancora una volta il lago con il castello di hogwarts al centro e poi andiamo ancora avanti ritroviamo piton e poi ecco che il famoso petrificus totalus che ermione lancia al povero neville e qui in alto missis pur che viene rappresentata come una sorta di sphinx un gatto nudo però tutto nero e poi ecco qui che abbiamo anche il tranello del diavolo quindi nulla è stato tralasciato qui abbiamo una bellissima illustrazione in diciamo due pagine perché questa parte qui si unisce a questa pagina intera della prova delle chiavi volanti anche questa prova molto molto bella più bella nel libro che nel film e qui abbiamo un elemento interattivo pop up qui abbiamo guardate quanto è bella la scacchiera con i ragazzi col trio e anche da questa parte guardate quanto è bella è molto molto bella e poi troviamo anche il troll di montagna che è stato tagliato nel film e dovremmo trovare anche un'altra prova questa qui la prova delle pozioni che nel film non è stata inserita ed è un gran peccato perché era molto molto bella e ideata da piton qui abbiamo raptor con l'uomo con due facce capitolo 17 quindi stiamo per arrivare alla fine del libro e troviamo un altro capitolo qui un'altra immagine interattiva con questo turbante che si srotola e lascia intravedere Voldemort se solo riuscissi a srotolarlo ecco qui ecco che vediamo il viso di Voldemort dietro il turbante ma andiamo ancora avanti ed ecco questa che è un'altra delle mie illustrazioni preferite abbiamo Harry in infermeria con Silente questa bellissima vetrata con Hogwarts e le quattro case molto molto bella e poi andiamo ancora avanti ci avviamo verso la fine troviamo dei dolcetti e poi ecco che abbiamo un'ultima illustrazione con la sala grande e gli standardi che da verdi si trasformano in rossi perché come ricorderete in un primo momento aveva vinto la coppa delle case serpeverde e poi invece viene assegnata a Grifondoro anche questa una gran bella illustrazione e il libro si conclude con questa illustrazione del treno e del binario nove e tre quarti ragazzi sono davvero estasiato ragazzi eccoci di nuovo qui e sinceramente io sono ancora senza parole perché questo volume è qualcosa di pazzesco mi dispiace tantissimo che la versione italiana avrà la nuova traduzione perché avrei acquistato anche quella se avesse avuto la vecchia traduzione ma sinceramente ho già l'edizione illustrata da Jim Kay con la nuova traduzione e mi basta invece non avendo mai acquistato un'intera serie di volumi in lingua originale ho colto l'occasione di prendere il primo e prenderò anche tutti gli altri in lingua inglese anche perché ho cominciato a leggerlo ho finito ancora solo il primo capitolo però mi piace tantissimo questa cosa di poterlo leggere in lingua originale quindi ho unito l'utile al direttevole ragazzi vi dirò questa edizione qui mi piace di più rispetto all'edizione di Jim Kay sono due cose completamente distanti tra loro differenti però come saprete come avrete visto dal mio video il quarto volume di Jim Kay mi ha fatto un po' storcere il naso ve l'ho anche detto perché appunto c'erano tantissime tantissime pagine bianche mi avete anche un po' criticato per questa cosa avete anche ragione l'ho detto diverse volte nel video però è davvero un peccato bastava magari prendersi uno due mesi in più di tempo però si poteva andare ad arricchire ogni pagina come hanno fatto Mina Lima che praticamente non hanno tralasciato quasi nessuna pagina basta davvero poco bastava un piccolo disegno una gelatina una rana una lettera una stellina qualsiasi cosa dei piccoli disegni che però avrebbero alleggerito un pochino questa sensazione di pagine bianche per davvero gran parte del volume davvero un peccato perché i primi mi piacciono molto ma devo dire che preferisco in ogni caso questo di Mina Lima perché mi piace tantissimo il loro stile il loro modo di illustrare e mi piacciono tantissimo anche gli elementi interattivi e in questo volume il mio elemento interattivo preferito è sicuramente quello della sala grande che con un'abile mossa diventa la sala grande in versione natalizia è davvero bellissimo è un'idea che è davvero semplicissima ma di grandissimo effetto quindi sono davvero super super soddisfatto a questo punto ragazzi non credo di avere molto altro da aggiungere se non che vi consiglio caldamente l'acquisto di questo volume acquistatelo il prima possibile perché secondo me diventerà difficile reperirlo col passare del tempo così come sta diventando per quelli di Jim Kay io ragazzi davvero sono super 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 soddisfatto credo sia la mia edizione preferita in assoluto e quindi fatemi sapere voi se l'acquisterete in lingua originale o in italiano se prenderete la nuova traduzione sono davvero molto molto curioso e fatemi sapere anche cosa ne pensate voi del volume degli elementi interattivi e fatemi sapere qual è il vostro elemento interattivo preferito ovviamente ragazzi vi lascio in infobox il link ad amazon per poterlo ricevere in due giorni ma anche il link al sito di minalima per poterlo acquistare autografato tutti i loro volumi arrivano autografati da entrambi però bisogna acquistarli esclusivamente sul loro sito bene detto questo credo di avervi dato tutte le informazioni necessarie per qualsiasi domanda contattatemi su instagram o contattatemi qui nei commenti mi trovate su instagram come antonio.seria e a questo punto vi chiedo come sempre di lasciare un mi piace commentare, condividere il video con i vostri amici iscrivetevi al canale Polaro non foste ancora iscritti e noi ci vediamo prestissimo con tanti altri video a te nel rifotter ciao ciao